Questo book trailer è progettato per essere accessibile a non vedenti e a non udenti. Un progetto di sinestesia audiovisive. Il mago di Hots, dal capolavoro firmato Lyman Frank Bohm. Prendete una bambina di nome Dorothy e il suo cagnolino Toto, che vivono felicemente in Kansas. Mescolateli in un terribile tornado e aggiungeteli in una terra magica. Oh no! La casa è finita proprio sopra la malvagia strega dell'Est. Ma non preoccupatevi, la strega buona per ringraziarvi dona ad oroti le scarpe magiche della strega. Mettetele da parte, vi serviranno più tardi. Lasciate camminare la bambina e il cagnolino per il regno di Hots e fategli incontrare tre amici un po' strani. Uno spaventapasseri senza cervello, un uomo di latta senza cuore e un leone senza coraggio. E lasciate percorrere alla banda una lunga strada adorata alla ricerca dell'incredibile mago di Hots, che possa aiutarli a trovare il loro ingrediente mancante. Il mago di Hots, un libro di Lyman Frank Bohm, edizione Rizzoli, Milano, 1978. Voce, Alice Abate Musica Gave in Luke Happy Fast Orchestral Adventure, 2017 Studenti Alice Abate Maria Giulia Chistolini Chiara Papalia Professori Dina Riccò Gianluca Balzerano Cultori Alberto Barone Giulia Martimucci Alessandro Zamperini Scuola del Design Politecnico di Milano 2019-2020 Motto ähacti Fa Cos Manager Di iP Es Bu Entra tampimiz Es Ad setup